tutti schierati come piccoli soldatini non possiamo perdere tempo perché se perdiamo tempo non possiamo fare un altro esercizio e non possiamo poi fare la partita ok? ci siamo capiti? allora il gruppo mio è partito bene e siamo arrivati un po' male alla fine anche quando corriamo anche quando corriamo e facciamo gli esercizi vi voglio vedere correre sulle punte ecco mister Gabriele e mister Roberto si gira e sempre sulle punte guardo davanti si corre così per andare più veloci ci si aiuta con le braccia e si va più veloce ascoltate ci siamo capiti? quando ci si mette e ci si schiera per fare un esercizio è inutile che facciamo i soldatini ci si mette a ventaglio uno a fianco all'altro e si guarda l'esercizio ok? va bene? comunque siete stati bravissimi grazie a tutti